Per la giornata mondiale delle api, il biodistretto etrusco-romano al mercato agricolo dell'Axa ha organizzato una giornata dedicata alla conoscenza del settore con esperti apicoltori. Oggi è la giornata internazionale mondiale delle api, le quali per noi hanno una funzione fondamentale, ma non soltanto per noi, per l'umanità propria, in quanto il 75% dei prodotti dell'agricoltura sono impollinati dalle api. Venendo a mancare le api, praticamente l'umanità cadrebbe nel baratro della fame. Siamo qui in occasione della giornata mondiale delle api, dove abbiamo accolto diversi apicoltori che possono istruire, anche dire agli adulti, l'importanza e il valore delle api nel nostro ecosistema. Laboratorio e degustazioni di miele è un prodotto che fa bene anche al corpo. È importante perché appunto i prodotti certificati biologici comunque garantiscono che sul prodotto non c'è nessun tipo di residuo chimico, quindi chimica zero in assoluto, anche perché non usiamo appunto chimica nella cura delle api. Ci sono tante partite che vengono dall'estero e noi siamo un po' preoccupati perché comunque noi che siamo apicoltori proprio del territorio e produciamo miele al 100%, a volte ci sentiamo un po' messi da parte rispetto alla presenza appunto di queste partite e lotti che vengono da lontano e hanno dei prezzi molto bassi rispetto a quelli che noi sosteniamo per la produzione. E abbiamo visto che le api vanno e diciamo si muovono in una zona dove il terreno è sano e fertile e questo ci rincuora perché significa che siamo sulla strada giusta.